Siamo al Liceo Galilei di Alessandria, scuola conosciuta nella nostra provincia per la tradizione scientifica che rappresenta. Da quest'anno abbiamo intrapreso una strada nuova perché vogliamo far intraprendere ai nostri alunni uno studio relativo alle tecniche per risanare l'ambiente. Non si è mai visto un liceo che in qualche modo riguardi materie così approfondite da punto di vista della medicina. Il mandato di questo corso biomedico è fondamentalmente fare una scelta consapevole per tutta una vita. E chiedo questo, in dieci secondi riesce a dirci quali tipi di indirizzi e di progetti sono presenti all'interno del liceo? Accetta la sfida? La faccio, l'accetto! Qualche anno fa sono stati proprio i ragazzi a sentire l'esigenza di comunicare in un modo diverso e abbiamo imparato alcune cose da loro. Riuscire un po' anche da un pregiudizio legato appunto al lente scolastico con qualcosa che sfrutta mezzi comunicativi un po' antiquati. In questo ambiente noi studiamo forme geometriche, studiamo simboli, studiamo numeri, utilizziamo tecnologie, studiamo racconti, perché no? Abbiamo analizzato un adattamento di un test di Lino Buzzati, ovvero i sette messaggeri. Ci avvaliamo gli insegnanti madrelingue, che è una tradizione ormai di questo liceo, ma che siamo riusciti a continuare anche durante il periodo del Covid. Per immergerci diciamo al massimo in quella che poi è la lingua che ci appassiona.